Sono 131 nuovi casi in provincia. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ASPE Nissenna relativo alle 24 ore precedenti, infatti, 131 pazienti positivi al SARS-CoV-2 sono tutti in isolamento domiciliare, così suddivisi. 44 di Gela, 33 di Caltanissetta, 12 di San Cataldo, 8 di Butera, 5 di Niscemi, 4 di Delia, 4 di Mussomeli, 3 di Montedoro, 3 di Riesi, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Campofranco, 2 di Milena, 2 di Resuttano, 2 di Sutera, 1 di Buonpensiere, 1 di Mazzarino, 1 di Sommatino e 1 di Vallelunga-Prata-Meno. In degenza ordinaria, 3 ricoveri di in particolare un paziente di Marianopoli, 1 di Gela e 1 di Niscemi, 5 invece le dimissioni, 3 pazienti di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 di Niscemi. Si registra un decesso di un paziente di Delia positiva al SARS-CoV-2. Guariti infine 51 pazienti di Gela, 25 di Caltanissetta, 13 di San Cataldo, 11 di Riesi, 10 di Milena, 5 di Niscemi, 5 di Butera, 4 di Mazzarino, 4 di Mussomeli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Sommatino, 3 di Vallelunga-Prata-Meno, 2 di Acquaviva-Platani, 2 di Buonpensiere, 2 di Campofranco, 2 di Delia, 2 di Marianopoli, 2 di Villalba e 1 di Montedoro. In tutta la Sicilia, stando al bollettino del 30 agosto, scaricabile dal sito tematico dedicato al Covid-19 del Ministero della Salute, l'incremento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente è pari a 1.957, mentre in tutta Italia 31.088.